E' Sciaraui, e' Sciaraui, e' Sciaraui! La Roma all'ultimo si porta a casa questa vittoria fondamentale nel modo più godurioso possibile, vale a dire con il gol composto dai due giocatori finiti comunque nel mirino di Corona e dei giornali, vale a dire Zaleski ed E' Sciaraui, bersagliati proprio dall'ex comunque paparazzo, chiamiamolo così, e che oggi compongono questo gol perché Zaleski fa il cross da cui poi scaturisce l'occasione ed è Sciaraui, butta in porta il pallone, se sono innocenti non lo so, ma oggi hanno giocato e hanno giocato componendo questo gol che per carità fa vincere alla Roma una partita giocata male secondo me, male perché comunque la Roma ha fatto poco e quel poco lo ha fatto anche male, si un po' di sfortuna, si due pali, però contro il Monza in 11 contro 10 per un'ora era quasi normale creare qualcosa e la Roma ha creato anche poco nel secondo tempo, ma era fondamentale vincere, la Roma ha vinto e con questa vittoria ha scavalcato, ha superato la zona grigia diciamo in classifica antecedente ai piazzamenti europei ed è al momento sesta, comunque prima di parlarne iscrivetevi, tanti like e tanti commenti qui sotto e seguitemi anche su Instagram e TikTok, link in bio. Detto ciò, allora, la Roma ha fatto questa partita per me abbastanza brutta e deprimente nel senso che ha creato poco, ha creato veramente molto molto poco, qualcuno dice eh sì contro di noi tutti i portieri avversari diventano Neuer, ok posso anche capirlo, però uno di Gregorio è sempre stato forte e anzi per me in questo momento meriterebbe anche una chance in azzurro, ma poi la cosa principale è che comunque ha fatto due parate, due parate di cui una su Awar che gli era tirata addosso di fatto e una che è stato un bel riflesso sì, ma una parata buona, a partita si può anche fare, non è che comunque il portiere non è che sono tutti il ruipatrisio dei brutti tempi in cui comunque tiri in porta e la palla entra, il portiere in teoria qualche parata potrebbe anche farla. Poi sì la Roma prende due pali con Lukaku e Azmun, però capite bene che comunque contro il Monza che era in 10, per me un rosso, il secondo giallo in realtà anche abbastanza eccessivo, capite bene che comunque contro il Monza in 10 non è che fosse così impossibile creare qualcosa e quindi francamente la Roma non ha convinto più di tanto oggi, anche perché ha rischiato, attenzione la Roma ha rischiato, perché il Monza di tanto in tanto si è spinto in avanti superando un centrocampo nostro quasi inesistente in fase proprio di difesa e ha creato, e comunque lui ha fatto più di qualche parata, quindi una partita sostanzialmente equilibrata, che la Roma vince, che la Roma vince, era fondamentale vincere, ne mette quattro di fila, quattro vittorie consecutive, era importante, era comunque molto importante portarsi a casa tre punti oggi, perché comunque, perché la Lazio ha vinto, perché così comunque sorpassi il Monza stesso, scali in alto in classifica, era molto importante vincere comunque. Il moto non è sicuramente esaltante, non pretendo da Murigno il bel gioco, neanche a giocare così però sinceramente a farsi a tratti, mettere sotto dal Monza in casa, però comunque bisognava vincere, si è vinto, benissimo così, benissimo così. Ora guardiamo alle prossime, che sono due partite cruciali secondo me, perché c'è lo Slavia-Praga, che è una partita delicatissima per le sorti del girone in casa, quindi vittoria obbligatoria, e poi c'è l'Inter, e poi c'è l'Inter a conclusione comunque di questo Tour de Force, c'è l'Inter che è una partita altrettanto importante che si può anche perdere, però bisogna vedere un attimo a che livello di mentalità sta la Roma. Se la Roma comunque farà una bella partita, dando quindi continuità, anche se non di risultati, ma quantomeno dando un segnale, che non è più la vecchia Roma che contro le big crollava senza neanche combattere, l'Inter in particolare, tranne l'anno scorso comunque all'andata, ecco sarà importante, sarà molto molto importante. Oggi comunque una partita non sicuramente bella, era obbligatorio vincere comunque in 10 contro 11, però la partita si era messa male e serviva sbruiarla, comunque risolverla in qualche modo. E si è fatto, e si è fatto con il gol di El Sharaoui, è entrato benissimo in partita. Ora se verranno condannati o no, non lo so, lui e Zaleschi, se hanno pagato è giusto che, se hanno sbagliato è giusto che paghino, però, 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 fatemi pensare che comunque questo qua sia anche un po' un segno del destino. I due condannati, diciamo, dai giornali, perché di questo si tratta, perché comunque la procura neanche sta indagando su di loro, i due condannati dai giornali che alla prima occasione smentiscono tutti e fanno insieme questo gol. Beh, è una bella immagine. Comunque, prima di parlarne, prima di parlarne di che? Prima di chiudere e di andare a pranzo, questo sì, iscrivetevi, ve lo ricordo, Lasciate tanti like e seguitemi anche sugli altri social, sempre link in descrizione. Ciao!